Mamma mia via Ra Che anticipo Poi ancora Frattesi che se la riprende Arnautovic Che allarga per Di Marco, si distende l'Inter Si fa vedere Lautaro Visto è servito Poi Di Marco Il cross al centro, Arnautovic Parata, ciala Ma che vuol dire, che vuol dire Poi Arnautovic Arnautovic, l'Inter è in vantaggio Con Marco Arnautovic